Un saluto e ben trovati alla voce delle istituzioni, incontriamo oggi il sindaco di Valdizoldo Camillo De Pellegrin, che saluto e ringrazio per la sua presenza. Iniziamo da un tema scottante, lei sfoggia adesso un bel sorriso che presto perderà perché le faccio questa domanda che riguarda una cosa che l'ha impegnata, ha impegnato i suoi uffici per molti mesi, per anni, brasiliani, cittadinanze, ci spieghi tutto dall'inizio. Il tema è ormai stato dibattuto e è anche abbastanza complesso. Io come sindaco lamento essenzialmente dal punto di vista squisitamente amministrativo un sovraccarico di pratiche per il riconoscimento della cittadinanza e delle sangue che stanno andando in tilt i miei uffici. E come i miei tantissimi uffici di questo paese, che probabilmente forse i sindaci non hanno voglia di esporsi o comunque di dichiararlo, ma io so di per certo di centinaia di comuni che sono nella situazione del mio comune e anche peggio del mio comune. Questo cosa determina un rallentamento, un'esposizione a responsabilità, risarcimento, ricorsi. Ed è una parte questa, quella diciamo tecnicamente del sindaco che mi riguarda, che come dovere d'ufficio e responsabilità rispetto ai miei collaboratori mi sento di dover evidenziare. E poi c'è l'altro tema, quello politico, quello che ci porta, ci dovrebbe portare a riflettere, ma siamo sicuri che questo sistema dello iure sanguinis, libero, inteso come senza limiti, sia prima del tutto giusto e a prescindere se giusto o sbagliato, sia funzionale a quelle che sono poi le esigenze del nostro paese. Perché se è vero che l'Italia ha bisogno di tantissime persone per lavoro, e noi poi in provincia Belluno abbiamo bisogno di tutto, lavoro, quindi mano d'opera, persone che vivono qua, famiglie. Siamo sicuri che questa via delle cittadinanze di iure sanguinis sarà quella che porterà brasiliani, argentini, insomma tutti quelli che hanno questo diritto, attenzione, di porterà a venire a vivere qui a Belluno o in Italia? Io non credo. So di per certo che c'è appunto una migrazione legata ai passaporti che va altrove. Il passaporto italiano e la cittadinanza italiana serve per altre finalità. Oggi il diritto lo riconosce, riconosce a chiunque abbia un ascendente italiano di poter avere il diritto a riconoscimento della cittadinanza. Poi io faccio una battuta simpatica, io credo che lei sappia più o meno come si chiamano i suoi nonni, no? Sì, arrivo fino ai bisnonni. Ai nonni arriva, i bisnonni anche si ricorda come si chiamano, ecco, ma lei sembra possibile che nei miei uffici arrivano persone alle quali si chiede, ma come si chiama suo nonno per il quale chiede insomma e non lo sanno? Io mi dico, tutto questo legame per l'Italia sicuramente ci sarà in un discuto che non ci sia questa parte di affetto degli oriunti, ma ci mancherebbe anche altro. Mancano però le prove in qualche modo. Sì, ma questo è un tema che tocchiamo dopo, ma io voglio dire una cosa diversa. Se è vero che c'è questo affetto degli oriunti per l'Italia, io l'ho vissuto sulla mia pelle, io sono stato due volte in Brasile, quindi conosco quella realtà. Ma noi con questo mercimonio delle cittadinanze, e dopo arriverò a dire perché mercimonio, stiamo svilendo un po' quella storia di amore e di affetti, perché stiamo buttando via il bambino e il bambino con l'acqua sporca. Allora, e non si deve fare, perché cosa c'è dietro? Dietro c'è un mercato enorme, c'è un business incredibile, c'è una rete di interessi legati alla cittadinanza di Uressanguilis, in particolare col Brasile, che fa, secondo me, dovrebbe scuotere le coscienze. Non avviene questa cosa, si vede che io sono particolarmente sensibile a certi temi, o forse sono un folle, non lo so. Ma vogliamo citare in ordine chi ci guadagna da questa vicenda? Le agenzie che si insediano in Italia e che gestiscono le pratiche in Italia per chi o chiede di riconoscimento della cittadinanza, vengono qui, si insediano qui e danno assistenza da qui all'estero, al Brasile, facendo venire qui le persone, seguendole. Perché lo fanno? Perché la prima via, quella consolare, quella che prevede che il cittadino brasiliano che richiede riconoscimento vada inconsolato, è talmente lunga, talmente decine di anni per avere riconoscimento della cittadinanza, che preferisce venire in Italia, farsi seguire dell'agenzia che accompagna queste persone nei comuni per fare, poi prendono la residenza, tutta la procedura che conosciamo, con tutte le implicazioni, gli arresti, che ci sono stati, tutte le questioni che sono emerse anche lì. Poi, ed era la seconda via, poi c'è la terza via, quella dei tribunali, che è nuova, è recente, che è quella che vede i comuni, ai quali che vede, insomma, i comuni oggetto di notifica da parte dei tribunali, in questo caso ormai dei tribunali di corte d'appello regionali, dell'ordinanza con la quale ci viene intimato di trascrivere gli atti e quindi riconoscere, insomma, la cittadinanza. Questa cosa, naturalmente, sta creando pochi problemi, perché il tribunale di Venezia, la corte d'appello di Venezia, lo ha dichiarato proprio il suo presidente, ha 12.000 pratiche, due terzi del loro materiale è legato a questo e ha lanciato un allarme, fate qualcosa, perché potenzialmente noi avremo una cifra da tipo 70 milioni di oriundi. Allora, per carità, saranno tutti legati all'Italia, avranno tutti un amore smisurato per l'Italia, ma se anche solo l'1% di questi 70 milioni o anche il 2% venisse realmente a vivere qua, ma io sarei la persona che vivisce nel mondo? Ma ci mancherebbe anche altro. Ma non accade questo? Non accade. Il passaporto, la cittadinanza è uno strumento per altre finalità. legittime, perché la legge consente questo oggi, non sto dicendo che sia un crimine richiedere la cittadinanza di Ure Sanguinis, mi chiedo però se uno Stato, non dico serio, ma uno Stato cosciente non debba pensare, forse come hanno fatto gli altri paesi d'Europa, la Germania, di rivedere la norma su Ure Sanguinis, decidere dove fermare questa catena che va indietro, perché è un ragionamento che dobbiamo aprire, perché le conseguenze di avere tutte queste persone con la cittadinanza possono ricadere poi indirettamente anche su di noi, perché la sanità gratuita ad esempio, io conosco persone, lo so, perché da quando sono oggetto di critiche, attacchi anche su Facebook, da parte di tutte queste figure che naturalmente hanno l'interesse a mantenere viva questa procedura, ho ricevuto anche naturalmente chiamate attestati di solidarietà, da tutto il mondo tra l'altro, su Facebook, dall'Irlanda ad esempio, mi hanno scritto dicendomi, ma fermate questa cosa, noi siamo qui italiani, ci sono 20 mila a Dublino, cittadini italiani, ma sono in realtà brasiliani, che non sanno una parola di italiano, figurano come italiani, sono scelte, però la sanità poi, voglio dire, queste persone iscritte all'aere fuori dall'Europa, vengono qui, prendono la residenza, che noi siamo obbligati a dare, hanno l'assistenza sanità gratuita, attenzione, tutto il mondo va aiutato, io sono per la sanità pubblica e per non lasciare dietro nessuno, però quel nessuno deve contribuire anche a tenere in piedi la baracca, perché se no è troppo comodo così, allora cerchiamo di capire che prima o poi anche l'Europa potrebbe suonare la campanella, perché il passaporto italiano è un passaporto europeo. Ma c'è poi il rischio che questi passaporti italiani vengano in qualche modo invalidati oppure sono fissi italiani? Il rischio è che gli Stati Uniti decida semplicemente di uscire dall'accordo visa con l'Italia, perché l'Italia è praticamente lo strumento attraverso il quale da Sud America fanno il giro per entrare negli Stati Uniti e voglio dire, il nostro passaporto oggi ha un valore, domani lo avrà ancora? Io non lo so, sono tutti temi dei quali è bene porsi delle domande e darsi anche delle risposte, sento, vedo oggi, questi giorni che stanno maturando iniziative per portare qui persone, per lavorare a mano d'opera, benissimo, io sono contentissimo, ma perché non portiamo qui intanto per fare un esperimento quelli che la cittadinanza ce l'hanno già? E non invece portiamo qui persone che dovrebbero lavorare qui, alle quali però dobbiamo fare prima la cittadinanza? Ma allora qualcosa non mi torna, qualcosa non mi torna, ho letto addirittura, era sui giornali, insomma, che i bolognesi nel mondo hanno evaso 600 pratiche aiutando, allora i bolognesi nel mondo stanno in buona sostanza preparando il terreno a 600 cittadinanza e iuresanguinis, dalle quali arriveranno altre 600, perché poi dopo di più anzi il triplo, perché la persona che ha la cittadinanza poi la trasmette e la collega, quindi, insomma, guardiamo bene un attimo a tutti quelli, appunto, che ci guadagnano, gli avvocati ad esempio, perché gli avvocati insediati qui, brasiliani, che si appoggiano a studi legali italiani, hanno tutto l'interesse che la cosa continui, perché dal Brasile la persona magari anche in difficoltà economica, che cerca in qualche modo giustamente anche di tirarsi su, deve pagare cifre considerevoli per farsi fare la pratica in Italia, manco più venire qua, l'avvocato lo segue, inoltre la pratica alla Corte d'Appello, al Tribunale insomma del distretto, di Regione, poi prende la carta, la manda in Comune, il Comune trascrive, l'avvocato riprende il documento, lo manda al cittadino italo-basiliano ormai, quindi tutti ci guadagnano un po' qualcosina, mi chiedo, sulla pelle di chi però? La vostra macchina quindi è, possiamo dire, ingolfata, cosa potete fare adesso a parte difendervi dai vari cause di risarcimento? Dobbiamo semplicemente dedicare più tempo dei nostri operatori comunali a fare questo, rinunciando a fare altro, io mi trovo costretto, ovviamente se non voglio avere continuamente ricorsi al TAR, a dover seguire una via, il Comune diventa, in sostanza, è lì, i miei collaboratori sono lì a fare quello, ma se dico che solo dalla settimana scorsa ne sono arrivate altre 10 di richieste. E quante sono pendenti? Partiti da 5,50 siamo già a 620, 630, ma il mio Comune non è il caso emblematico, cioè il fatto che io sollevi ripetutamente la questione, non vuol dire che il mio Comune è messo peggio dagli altri, guardi che io non lo dico per rispetto dei colleghi, ma ci sono Comuni che sono messi molto peggio dai miei, ma probabilmente i miei colleghi non ritengono di dover evidenziare questo come faccio io, perché posso capire che si vede che ognuno ha sensibilità diverse. Ricordo però a tutti che gli uffici anagrafici dei Comuni non sono l'ultimo ufficio al quale non si dà un po' da mangiare ogni tanto quando ti ricordi, perché prevalentemente è importante l'ufficio tecnico perché la gente vede quello che fai. Guardate che lasciare i documenti, gli attestati, in tempo, in regola, sono cose importantissime perché cambiano la vita della gente. Quindi io veramente sono molto dispiaciuto per tutti i responsabili anagrafici, per chi lavora nell'anagrafe dei Comuni, che sono trattati veramente come fossero l'ultima pezza da piedi, sia per gli stipendi e in più anche rispetto a questa cosa, perché la responsabilità poi è loro. Mi chiedo, siamo consapevoli almeno di cosa andiamo incontro o pensiamo di risolverla? Ma sì, facciamoli venire che così abbiamo risolto il problema della mano d'opera e del futuro residenziale, delle famiglie, di cosa pensiamo. Ma no, perché se restassero qui, io sarò il primo. Non è così, non restano qui. Lasciamo allora in sospeso questo argomento, ci aggiorneremo più avanti. Abbiamo ancora qualche minuto per parlare di qualche cosa che riguarda effettivamente il suo Comune, ad esempio lavori pubblici, c'è qualche aggiornamento? Sì, quest'anno è un anno intenso, anche perché non solo noi con le nostre piccole e medie opere, ma anche il Genio Civile farà degli interventi importanti sul MAE. Noi dovremmo riuscire, se tutto va bene con il bando di gara, che è molto complicato, poter forse mettere la prima pietra per i lavori di ampliamento della casa di riposo. Dobbiamo ultimare il ponte che porta a Pralongo. Inizieremo, mi auguro anche lì, con i tempi del bando, la sistemazione anche del ponte che collega Cella a Stragale. Abbiamo tutta una serie di opere infrastrutturali che sono importanti. Lo stelto del ghiaccio, che forse qualche spiraglio si sta aprendo, vedremo se sarà possibile immaginare o intravedere questo famoso tetto che porterebbe non poco sollievo. Abbiamo il tema della fibra, quest'anno partiranno i lavori di scavo nella parte alta e quindi sarà una devastazione, però sistemeremo la parte bassa con gli asfalti. Abbiamo, insomma, tante... Illuminazione? Illuminazione pubblica? Led? No, abbiamo già cambiato tutto qualche anno fa. So che è un tema che colpisce. No, è un tema importante. Noi abbiamo fatto un accordo con un'azienda ancora in concept qualche anno fa e tra l'altro mi pare che l'anno prossimo tutti i punti di luce cambiati, diventeranno praticamente, anche il consumo diventerà nostro. Spiego meglio. Abbiamo ceduto il nostro consumo, quindi noi pagavamo 100 di corrente. Loro hanno messo a LED, le luci a LED, hanno speso 70 e quindi ogni anno loro si incassano al 30, perché è la differenza di costo. Questo vantaggio finalmente adesso arriverà a noi, perché sono passati 7 anni e quindi i 30 di risparmio finalmente li sentiremo anche noi. E questo ci potrà permettere solo di fare ulteriori investimenti, perché gli interventi sulla pubblica sono fondamentali, perché noi ci concentriamo sul punto LED, ma sotto il punto LED c'è il palo, i collegamenti, le cabine, l'interramento. È un marasma di complicazioni la pubblica, in particolare in territori nei quali la temperatura sale e scende, piove, nevica, quindi la spesa è costante. Noi siamo incredibilmente alla fine della nostra intervista, è volata come una farfalletta. Abbiamo d'altro canto parlato di un tema molto importante sul quale sicuramente torneremo. Ringrazio ancora il sindaco di Valdizoldo Camillo De Pellegrin per la sua presenza. Grazie. Grazie a voi per averci seguiti. Arrivederci.